Hasta la vista ragazzi, sono sempre io, TheGamer800, siamo in un nuovo video su Destiny Reri Corrotte Ragazzi, come vedete qui in alto, potenziati, lo facciamo subito Credo già di andare sul sicuro, dobbiamo potenziare quest'arma qui Che ci ha salvato il culo in alcuni casi Compensatore lineare, rincolo più prevedibile, impatto e gittate leggermente aumentati Rincolo maggiore, va bene, qui invece Gittate a minore, rincolo maggiore, qui invece Rincolo più prevedibile, impatto aumentato Impatto e gittate leggermente aumentati, quindi non può farci che bene questo potenziamento Poi, ho visto che si era sbloccato tipo questo, quest'arma qui Che deve essere sempre il Marquis, va bene, lanciarazzi e ce lo prendiamo Dai, questa volta andiamo con lanciarazzi Se noi abbiamo 155 di difesa, ci possiamo anche prendere questo qui come spettro Ok Come questi qua penso ci siamo Anche se fanno un po' schifo, raga, togliamici tutto, vaffanculo 125 di difesa, che caccia ce ne dobbiamo fare, dai La più forte è che io, 145, 136, ma dai Ok, questa la scartiamo Questi 150, 155 Io ho la 270, che è la più forte La possiamo anche potenziare Vediamo Ah, cambia solo questa cosa qui Quindi niente, niente Ok Come arma, questa ci ha salvato il culo un sacco di volte Ma questa qui Il fucile Appompa Non lo so, raga, se prenderlo o meno Perché mi ha salvato più volte il culo un'altra arma, non quella Questa invece mi piace Questa qui mi piace, raga Credo proprio che Che mi prenderò forse questa Però qua mi ha salvato il culo, quindi me la voglio togli Vabbè dai, lasciamo quella che ho, raga Andiamo sempre con le stesse, che più o meno mi hanno salvato sempre il culo Impostiamo la destinazione, raga Allora, l'ultima volta che avevamo fatto L'oscurità dal profondo, raga Che dovrebbe essere Sì, dico bene La Come dire La DLC di Destiny Il re dei corrotti Dovrebbe far parte Anzi no La DLC numero 1 Infatti vedete qui Lo scritto dal profondo è numero 1 Poi tipo Ce ne sono degli altri Tipo queste Casa dei lupi Che è la numero 2 Poi c'è il re dei corrotti Che deve essere solo una missione, credo Comunque Vedremo Ora Facciamo, raga Il casato dei lupi La zona esilente Che è il livello 18 Oppure Questo è il livello 20 Dobbiamo fare il livello 18 Siamo andando in ordine Prima facciamo questa Livello 8 Poi abbiamo fatto Livello 16 Poi livello 18 Livello 20 Finiamo la terra Quindi, raga Fermo il branco di assassini di Skolas Prima che rompa Non il cosmodromo Qui dice Riprendi o riavvia Riavviamo Ancora magari l'avevo già iniziata, raga Lancio, sì Confermiamo Evidentemente l'avevo già iniziata E poi Evidentemente non l'ho potuta registrare Però non l'ho già giocata Evidentemente avevo appena iniziato E sarà successo qualcosa Non ricordo E non l'ho più finita Quindi Facciamocela come Non l'abbiamo mai fatta, raga Belli, tranquilli Rilassati E andiamo In guerra Sulla terra Prima di essere promossa Emissaria della regina Ero al suo servizio Nelle guerre dell'Atollo Ok Cazzana Silente È un branco di assassini Molto simpatici Durante la guerra Furono incaricati Di uccidere i nostri comandanti Faranno lo stesso Col casato dei diavoli Io e Varix Conosciamo i loro trucchi Li prenderemo Va bene Ok 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 Dai Muoviamoci Ok raga Iniziamo subito Ok Iniziamo già a decodere questi E merda Chi cazzo è che mi spara già da qui Ci sono gli altri Quindi Ci sono gli altri Come sospettavo Non si è fatto niente Allora Da che parte Devo andare di là E perché tu Indichiti qua Porca miseria Da raga Seguami cararmati Allora tu mi dici Di andare verso il muro qua E qua non c'è niente Tu mi dici di andare Verso là in aria Non c'è un cazzo E tu invece mi dici Di andare di là Nella porta Quindi tu hai ragione Ti do un premio Ok Se vieni con la missione Ti do un premio Andiamo Ok Di dove cazzo va andare Qua è un bunker Sì mi ricordo questa volta Ok Raga Vi ricordate questo posto All'inizio Quando facciamo la prima volta La terra Che iniziai La serie di Destiny Siamo passati di qua Non so se ve lo ricordate Dall'epoca però Siamo diventati Molto più forti Siamo diventati Molto più forti A dir poco Molto più forti Solo che queste Sono missioni Da alto livello Comunque Allora Andiamo di qua Di qua Qui c'erano i laser Tanto tempo fa Non so se usciranno ancora Eccoli qua Quindi Raga Se mi ricordo bene Ci abbassiamo E ci passiamo Tranquillamente Da sotto Eccoli qua Ci sono i vandali Sandali Ci sono tutti Raga Ok Qua c'è Già La possiamo far scoppiare Subito Qua c'è un altro Vandalo di merda Che mi spara E mi disturba Allora Devi cambiare arma Metterci qui dietro Un attimo Perché vedo Che è pieno Di nemici Porca puttana Raga Pieno 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 Ok La granata Devebbe risolvere Molti problemi Ok Stiletti Rilevatori Rilevatori Sono questi No Ok Distrutti Anche questi Non c'era Dubbio Non c'era Dubbio Eh Merda Aderito Devo usare Questa Per saltare Deve cazzo Sto andando Ok 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 Sono salito Bene Cazzo è qua Ok Andiamo dai 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 Non perdiamo tempo Andiamo di qua Oh Oh Allora voliamo Perfetto Perfetto Ecco Pensavo che non le vedevo La bomba Ma si dai Facciamole scoppiare Tanto Voliamo qui Ok raga Questa ce l'ho fatta Questa la superiamo In questo modo Oh merda Facciamola scoppiare noi A questo punto Ok Ce l'abbiamo fatta Qua c'è un'altra bomba La possiamo usare come Granata contro loro stessi Con le mine di merda Ok Vedo che ce ne sono degli altri qui Ok Ce ne sono altri nemici Qua non vedo nessuno Ed è molto inquietante Perfetto Sto cazzo di fucile Mi rende sempre E va Fanculla Ah si è accesa la torcia Notato In automatico Si è accesa la torcia Vediamo un po' Qua E' proprio il punto Dove iniziamo il gioco Raga Veniamo di qua Queste zone qua Non mi ricordo precisamente dove La zanna probabilmente Aiutò Scolas a fuggire Ah ok Ma si dice che la regina Lo avesse dato in dono ai nove Come fece la zanna A illuderli Non lo so Sei tu parte del gioco Come faccio a saperlo io Tu dovresti saperlo Ah che schifo Qui mamma mia Ah rientro limitato Occhio guardiano Allora Raga Vediamo Allora Facciamoci Ecco qua Carca puttana Che cassino Che si è scatenato Allora Dai Veniamoci Ce ne saranno A milioni Raga di questi Ah scherzo A migliaia Dai Poi c'è pure Il rientro limitato Quindi raga Stiamo attenti qui Ah merda Pure il capitano Ci mancava Ok Sistemato Eh no 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 Non ci siamo Non ci siamo Non è così che si fa Non si sparano le bombe Dall'alto Con questi cazzi Di aerei Astronaviche Avete Eh vaffanculo Con la super Pecco in culo Sti cazzo Di armi Di merda Che avete Ok Ho preso qualcosa Ok qua Sembra che non ci sia più nessuno Ma là sarà atterrato Qualcun altro Infatti A me i vandali I sandali Che me li preoccupano Raga Questi non tanto E vaffanculo A cazzotti Li prendiamo E muoiono Volevo dire Purtroppo abbiamo Il rientro Limitato Raga Non ci possiamo Permettere Vediamo di cambiare Un momentino L'arma Vediamo Raga Ci prendiamo Il fucile di precisione Ecco qua Ci dovrebbe servire Qualcos'altro E come che ci serve Qualcos'altro Raga Porca miseria Da lontano Fa molto Mamma mia Ah Eccone un'altra Raga Eccone un'altra Qua la zona E' tutta pulita Qua abbiamo qualcosa Ok L'engramma cifrato No Merda Mi sono finita Le munizioni Raga Dai raga Cosa dobbiamo fare Nascondiamoci qui dietro Mezza le macchine Mezza le ottami Ok Qui dietro Più sicuro Ok Quei bastardi Degli invisibili Ma che cazzo Ti credi di essere Ad un invisibile Dei fantastici quattro Porca merda Raga Quante ce ne tocca Eliminare Stavolta Facciamo presto Facciamo presto Qui c'è il rientro Limitato Cazzo Non possiamo Permetterci di perdere Porca miseria E anche qui Siamo abbastanza protetti Allora cazzo Andiamocene di qua Raga Così tanto Se vengono L'unica parte Dove possiamo venire E questa E dove cazzo sono adesso Ok Possiamo usare le macchine Per nasconderci qui dietro Almeno sulla terra Ci stanno le auto E' buono E' buono che ci stiano Invece su venere Era abbastanza strano Caputana Ce la faremo? No Questa è la domanda Raga Vediamo un pochettino Allora Dai ce la stiamo facendo Dai cazzo Merda 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 Riparo Merda Allora Devo distruggere Col bastardo Zanna silenta Eccola la zanna silenta Raga Ne ho trovate due Ce ne sono due La dietro Credo Eccola No no E' uno E' uno L'altro era quello invisibile Ma vai Ma vai Oh merda Si sposta velocissimamente Io volo Io sono iron man Porca puttana Raga E' complicato E' complicato Dove cazzo è andata adesso Porca puttana Che cazzo di missioni oggi Che c'è venuta a capitare Merda E' difficilissimo Ah merda 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 Ma vai Ne devono arrivare altri No ragazzi No ragazzi Non ne arrivano altri Perché cazzo abbiamo finito Mamma mia Raga Ma c'è un altro casato Caduto sulla terra Mamma mia Scommetto che la sua prossima mossa Sarà contro i re La zanna silente Raga L'abbiamo completata Porca puttana Che casino Casino totale Ne stavano Almeno Non lo so 10.000 20.000 soldati Ma che cazzo Dai Porca merda Che cazzo di risultato Mamma mia Ok raga Ok Vediamo un po' Oh Vabbè niente potenzialmente oggi A quanto sembra Morti 0 Porca puttana No uccisione precise 19 Benissimo ragazzi Sono contentissimo Va bene ragazzi Direi che per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciatelo Condividete Iscrivetevi Se non siete iscritti Alla prossima